basta 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 ma che basta ma che resta un gattito e io non lo faccio perché non lo faccio ma questa gente si dovrebbe mangiare da dentro a questa ventola di ferro meravigliosa no non ti permette giù è successo qualcosa? è carla il solito che il nonno esce solo per vedere i nipoti a giocare a pallone quando gli chiedo io di uscire per fare due passi per prendere un gelato e mi ha detto che non è il caso guarda dove dovrebbe uscire il sale dagli occhi e dalla bocca ma tu com'è che c'hai la pasta diversa? è una bambina speciale no 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 fermatelo perché lei è diversa? boccuccia di rosa guarda un pozzo senza bambina perché te la mia che sono questi